Mentre da Roma tutto tace sulla nomina del commissario ad acta alla sanità, in Molise questo silenzio sta sollevando polemiche e preoccupazioni negli ambienti politici, ma anche in quelli della sanità regionale. Ritardi e silenzi contro i quali si sono schierati i consiglieri regionali di orgoglio Molise, Paola Matteo e Gianluca Cefaratti, che senza giri di parole affermano che Toma è il nome giusto per il commissario alla sanità, tirando in ballo i 5 stelle che invece sostengono la tessi secondo la quale il commissario deve essere un esterno. Una nomina rivendicata con forza dallo stesso governatore Toma, ma su cui al momento il veto da Roma resta. Per i due consiglieri regionali di orgoglio Molise, il presidente della regione ha competenze e esperienze tali da consentirli di gestire la sanità molisana in questa difficile situazione. Il rischio, secondo Matteo e Cefaratti, è che l'arrivo di un tecnico esterno produrrà solo tali indiscriminati che non terranno conto delle esigenze del territorio e dei suoi cittadini. I provvedimenti da adottare vanno legati con estremo raziocinio a quelle che sono le condizioni di vita, la natalità, l'aspetto democrafico, lo spopolamento delle aree interne, hanno sottolineato, e non possono non essere associati alla situazione disastrosa delle infrastrutture e della viabilità. E chi meglio del presidente della regione può lavorare tenendo conto di questi fattori. I portavoci del Movimento 5 Stelle, che a Roma tanto si indignano per le ingerenze esterne sulle questioni nazionali, richiedono a gran voce invece, per le questioni locali, un intervento esterno, hanno concluso Paola, Matteo e Geruca Cefaratti, che sollecitano la nomina di Toma a commissario, una nomina che, hanno aggiunto, deve arrivare in tempi brevi perché la situazione della sanità in Molise è tale da non poter più attendere. Per il portavoce di Isernia domani, Emilio Izzo, è arrivato il momento di chiudere la vicenda con la nomina del commissario. Non comprendiamo perché il nuovo governatore non possa coincidere con tale figura, dichiarato incolpevole, così com'è, della situazione pregressa. Per quanto ci riguarda, non crediamo ci siano ostacoli a questa soluzione. Crediamo che chiunque sia il nuovo commissario, per noi nulla cambia sotto l'aspetto della lotta a favore degli ospedali, dei reparti e delle aspettative dei molisani, ha concluso Izzo.